Il rapper ha svelato i motivi che l'hanno spinto ad allontanarsi dal collega, con il quale ha avuto un forte sodalizio artistico e personale. Senza filtri i lunga hacks si è raccontato nell'ultima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei, One More Time. Il rapper e giudice di All Together Now ha ripercorso la sua storia, dall'infanzia al successo. Tra le tante cose ha parlato Pure del litigio con Fedez. Per un lungo periodo i due hanno stretto un forte sodalizio artistico e personale. Poi all'improvviso, dopo aver sfornato tante hit di successo, si sono allontanati. Il lunga hacks vero nome Alessandro Aleotti ha ammesso che fin da subito ha avuto una grande affinità con il marito di Chiara Ferragni ma che è stato poi costretto a interrompere la loro collaborazione per una questione di serenità. Queste le parole del cantante. Con Fedez avevo innanzitutto un'affinità artistica, ci ha unito anche l'amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l'imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business, può finire tutto in un attimo. Oggi ancora più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d'ansia. Da qui la decisione di non collaborare più con Federico Lucia, che oltre ad essere un cantante è più un talentuoso produttore e imprenditore nonché un giudice di X Factor. Parlando della sua carriera Ilunga Axe ha inoltre fatto sapere che prendere strade diverse gli ha salvato la carriera. A detta dell'artista tutti i rapper della sua generazione sono falliti ma lui è riuscito a sopravvivere sperimentando nuovi generi musicali anche se molti lo hanno bollato come venduto.